I Farnese furono influenti nel rinascimento italiano per diverse ragioni, mecenatismo e patronato artistico. I membri della famiglia Farnese furono grandi mecenati d'arte. Sostennero artisti come Michelangelo, Raffaello, Tiziano e Annibale Carracci. Grazie al loro patronato, queste menti creative poterono realizzare opere d'arte che ancora oggi ammiriamo. Posizione geografica strategica. Il Ducato di Parma e Piacenza, governato dai Farnese, si trovava in una posizione centrale tra le città culturali italiane come Firenze, Roma e Venezia. Questo permise loro di interagire con intellettuali, artisti e commercianti provenienti da diverse parti d'Italia. Legami familiari e politici, i Farnese avevano legami familiari con altre importanti dinastie europee. Ad esempio, Papa Paolo III era un membro della famiglia e fu in grado di influenzare gli affari ecclesiastici e politici. Questi legami familiari contribuirono alla loro influenza. Architettura e urbanistica, i Farnese fecero costruire importanti edifici come il Palazzo Farnese a Roma, progettato da Michelangelo e Sangallo il Giovane. Questo palazzo divenne un centro di attività culturali e politiche. Collezionismo e arte, la famiglia Farnese accumulò una vasta collezione di opere d'arte, tra cui sculture, dipinti e manoscritti. Questa collezione contribuì alla loro reputazione di mecenati e appassionati d'arte. In sintesi, la combinazione di mecenatismo, posizione strategica, legami familiari, architetture e collezionismo rese i Farnese una delle famiglie più influenti del Rinascimento italiano. I Farnesi furono un'influente e nobile dinastia del Rinascimento italiano. Governarono il Ducato di Parma e Piacenza dal 1545 al 1731 e il Ducato di Castro dal 1537 al 16491. Ecco alcuni dettagli interessanti sulla famiglia Farnese, etimologia, il nome Farnese ha antichissime origini. Si pensa che derivi da uno dei loro antichi faudi, noto come Castrum Farneti. Alcuni sostengono che il nome derivi dalla quercia della regione, la Farnia, Quercus Robur, mentre altri lo collegano alla parola Fara, che indicava l'unità fondamentale dell'organizzazione sociale e militare dei Longobardi origini. Nel XII secolo, i Farnese possedevano piccoli faudi nel territorio della diocesi di Tuscania. Ad Orvieto, venivano appellati come i signori de Farneto e la loro presenza è ampiamente documentata. Nel 1319, tornarono nella Tuscia, diventando signori di Farnese, Ischia, il castello di Sala e San Savino Ascesa. La famiglia Farnese si distinse come uomini d'arme al servizio del pontefice e delle città guelfe. Pierluigi Farnese, figlio di Papa Paolo III, fu investito del Ducato di Parma e Piacenza nel 1545. Da allora, la dinastia Farnese divenne celebre e investita di dignità sovrana membri importanti. Papa Paolo III, membro influente della famiglia. Fu Papa dal 1534 al 1549 cardinale Alessandro Farnese, importante figura ecclesiastica e diplomatica. Duchessa Elisabetta Farnese, regina consorte di Spagna e ultima erede dei Farnese. Collezione Farnese, la famiglia fu grande mecenate d'arte e collezionò molte opere, alcune delle quali fanno parte della collezione Farnese. Inoltre, fecero realizzare molti edifici, come il Palazzo Farnese e la Chiesa del Gesù a Roma. In breve, i Farnese lasciarono un'impronta indelebile nella storia italiana, sia come governanti che come mecenati d'arte. L. Palazzo Farnese, situato a Roma, è un notevole esempio di architettura rinascimentale e una destinazione imperdibile per gli appassionati di storia e arte. Originariamente costruito nel 1517 per la prominente famiglia Farnese, in seguito servì come residenza di Papa Paolo III I. Ecco alcuni motivi che hanno reso il Palazzo Farnese così importante architetti di rilievo. Il palazzo fu progettato da Antonio da Sangallo il giovane e costruito tra il 1517 e il 1589. Quando Sangallo morì nel 1546, lasciando l'edificio incompiuto, Michelangelo fu incaricato da Papa Paolo III, membro della famiglia Farnese, di completare il lavoro. Michelangelo contribuì alla realizzazione del balcone, dello stemma araldico, delle finestre del piano superiore e della cornice della facciata principale. Inoltre, progettò il piano superiore del cortile interno, che presenta uno stile più manierista rispetto al Rinascimento. Decorazioni e affreschi, l'interno del Palazzo Farnese è decorato con affreschi di Annibale Carracci. Questi dipinti arricchiscono l'atmosfera del palazzo e testimoniano l'importanza dell'arte nel contesto rinascimentale. Ruolo storico e culturale, il Palazzo Farnese fu un centro di attività culturali, politiche e sociali. La sua posizione strategica a Roma lo rese un luogo di incontro per intellettuali, artisti e membri dell'aristocrazia. Eredità e attualità, oggi, il palazzo ospita l'ambasciata francese ed è di proprietà della Repubblica Italiana. La sua bellezza e la sua storia lo rendono un simbolo significativo dell'architettura rinascimentale. In sintesi, il Palazzo Farnese è un esempio straordinario di come l'architettura rinascimentale abbia influenzato la storia e la cultura di Roma e dell'Italia.